Quali sono secondo lei gli ambiti di sviluppo che potrebbero essere ritenuti più importanti e strategici per il nostro territorio? Penso ad esempio alla difesa del territorio, piuttosto che alla creazione di nuovo lavoro, di formazione o allo sviluppo delle politiche agricole. Credo che tutte queste dimensioni siano importanti. Certamente la Liguria è un laboratorio importante per la sperimentazione attraverso i fondi di coesione, per le aree interne, per la costruzione di servizi a misura di territori diversi, per il reinserimento lavorativo delle persone che magari escono dal mondo del lavoro, dalla situazione in cui stavano a un'età in cui possono ancora essere riempiegate, rispetto alla fragilità del territorio e quindi gli interventi che riguardano la messa in sicurezza. Sono davvero molti gli ambiti e la Liguria appunto, tutto sommato, si può dire che per le sue caratteristiche, anche di una demografia particolare, la necessità per esempio di trattenere i giovani, di dare loro opportunità e dare strumenti agli anziani per un invecchiamento attivo, per essere parte della società. Ecco, la Liguria è certamente un grande laboratorio di innovazione sociale, anche grazie ai fondi di coesione. Tanti diversi progetti si fanno con i fondi di coesione, ci sono tante storie di successo che hanno appunto creato opportunità per le persone. Si conoscono poco, tutto sommato, perché intanto sono spesso gestiti da altri enti, non dall'Europa ma dal livello regionale, dai comuni oppure addirittura con progetti statali. In realtà sono risorse europee, frutte del lavoro che si fa al Parlamento europeo per dare ad esempio delle regole su questo. Io ad esempio mi sono molto occupato del tema della lotta alla povertà, lotta alla povertà anche minorile con progetti specifici dentro il Fondo Sociale europeo. Infatti un po' di preoccupazione c'è rispetto al tema del PNRR, dell'attuazione del piano di ripresa europeo che riguarda quindi fondi aggiuntivi, che non ci siano sostituzioni di fondi magari mancanti del PNRR con risorse dei fondi strutturali, dei fondi di coesione. Ci sono dibattiti in corso su questo. serve invece difendere l'autorità e l'autonomia dei fondi di coesione che come dicevamo hanno dato tantissime opportunità e dovranno essere usati sempre meglio, sempre di più, non vanno sprecati. Su questo l'Italia può fare meglio, anche tutti i territori, perché certamente possiamo utilizzarli sempre di più e sempre meglio.